mobile world congress 2017 dallo spazio vodafone che abbiamo già visitato in diretta qualche ora fa per presentarvi alcuni dei servizi ma sono voluto tornare qui perché oltre a tutte le offerte che vodafone fa le proposte che fa riguardo al futuro soprattutto cioè gli oggetti connessi ad esempio una scuola anche in scatola che permette di installare un istituto scolastico nel campo profughi ma quello che mi ha colpito e ha colpito soprattutto la mia immaginazione è quello che sto vedendo in questo momento ovvero una stazione radio mobile installata su un drone è una situazione molto curiosa che può essere utilizzata ad esempio per diffondere la rete in 4g tanto 800 megahertz quanto a 2008 in occasione come grandi eventi grandi concerti oppure perché no quando c'è il disaster recovery quindi situazioni di emergenza in cui magari non sono disponibili le celle tradizionali è un drone con collegato una stazione radiobase è cablato con un enorme batteria e che a sua volta può essere connessa all'energia elettrica quindi la durata in pratica di questo drone è praticamente infinita è inesauribile la dotazione di energia di cui è dotato è una soluzione davvero curiosa chissà prima o poi se non arriva il telefonino nella zona dove abitate potreste comprare uno di questi per garantirvi un segnale sempre perfetto ci ritroviamo più tardi dal mobile world congress